Conosciamo tutti l'importanza di definire i nostri obiettivi. Io da coach ogni giorno mi trovo a lavorare con i miei clienti di coaching, i quali lavorano costantemente sui propri obiettivi, lavorano sulla definizione degli obiettivi, sulla realizzazione degli obiettivi, sulla definizione del piano di azione che concretamente li porta ad ottenere ciò che desiderano, sia in ambito personale, sia in ambito sportivo, sia in ambito professionale. Ma è davvero sempre una buona idea quella di definire come obiettivo qualcosa che desideriamo, qualcosa che ci salta in mente, qualcosa che abbiamo deciso di voler ottenere? La risposta è no. Ci sono delle situazioni in cui è meglio non definire come obiettivo quello che abbiamo deciso di voler ottenere, quello che abbiamo deciso di realizzare. E quali sono queste situazioni? Ad esempio non sarà una buona idea definire un obiettivo se non hai la totale consapevolezza che sarai tu a dover svolgere il grosso del lavoro. Se tu definisci un obiettivo per te stesso o per te stessa e però per arrivare a questo obiettivo serve che il grosso del lavoro lo faccia qualcun altro, è meglio decisamente cambiare obiettivo. Un'altra situazione in cui ti sconsiglio decisamente di definire il tuo obiettivo è se consideri la fortuna un aspetto determinante. Se cioè per arrivare dove vuoi arrivare, credi che la fortuna sia il fattore più importante, beh allora lascia perdere. Abbiamo dentro di noi un potenziale incredibile che purtroppo nella stragrande maggioranza dei casi non viene utilizzato. Questo però non significa che davvero possiamo fare tutto quello che sogniamo, che desideriamo, che vogliamo. Semplicemente perché ci sono dei limiti di cui dobbiamo tener conto. Ad esempio, se non hai mai corso, non hai mai fatto alcun tipo di allenamento, sei decisamente in sovrappeso, è molto difficile che tu riesca a correre una maratona o un'ultramaratona preparandoti in poco tempo. Ecco quindi che un'altra situazione in cui è sconsigliabile definire il tuo obiettivo è se questo obiettivo appunto è davvero troppo troppo più grande di quanto tu non possa riuscire a realizzare, riuscire a costruire. Quindi l'obiettivo deve essere qualcosa di grande, qualcosa di importante, qualcosa di sfilante, ma non troppo lontano da te in modo che sia irraggiungibile. Quindi trova il giusto equilibrio tra qualcosa di veramente grande che ti sproni, che qualcosa che rappresenta una sfida importante, ma che allo stesso tempo abbia delle ragionevoli certezze, magari no, ma comunque delle buone possibilità che tu riesca ad arrivare dove desideri arrivare. Vuoi davvero realizzare quello a cui stai pensando? Ci tieni davvero o lo fai soltanto perché è una moda, perché è un trend, perché qualcuno ti ha detto che dovresti farlo. Ecco, questa è un'altra situazione in cui dovresti evitare di definire il tuo obiettivo, cioè se è una cosa che non vuoi veramente e che è più che altro qualcosa che hanno detto gli altri e che tu hai accettato. E infine ti sconsiglio di definire il tuo obiettivo se lo fai esclusivamente per raggiungere un risultato che ti serve per essere accettato da qualcun altro, da qualcos'altro, ad esempio un gruppo, ad esempio un qualcosa o qualcuno che vuole da te cose che tu non vuoi, qualcuno che vuole farti diventare una persona che tu non vuoi essere e che non sei. Quindi prima di definire il tuo prossimo obiettivo assicurati di essere consapevole che il grosso del lavoro lo devi fare tu. Abbandona l'idea che la fortuna sia un fattore determinante. Certo, un colpo di fattore C certo non farà male e sarà sempre apprezzato, ma non basare il tuo piano d'azione sulla fortuna, basa il tuo piano d'azione su ciò che puoi fare, ciò che puoi fare ogni giorno per arrivare al tuo risultato. Trova il giusto equilibrio tra l'importanza di una sfida che davvero ti metta alla prova e che ti spinga a fare il meglio che puoi e che allo stesso tempo ti dia delle ragionevoli certezze sul fatto che tu ce la possa fare a portarti a casa l'obiettivo. Accertati che il tuo obiettivo ti dia veramente qualcosa che desideri e non qualcosa dettato da qualcun altro, dettato dalla moda o dettato dai tuoi amici o dalle tue amiche. Infine assicurati che il tuo obiettivo non sia un modo per piacere agli altri, per piacere a qualcuno, per essere accettato oppure essere accettato da qualcuno che in realtà non vuole che tu sia la persona che sei. Ti auguro un buon lavoro perché davvero ce n'è tanto da fare, c'è tanto lavoro da fare nella definizione dell'obiettivo, nella definizione del piano d'azione che ti porterà a raggiungere il tuo obiettivo, nella gestione dell'imprevisto, nella pianificazione, insomma c'è davvero tanto da fare. Quindi rimboccati le maniche.